Diversi temi emersi al convegno di Pfexpo, in un punto del confronto lei ha detto la nostra è una struttura che non guarda solo al domani ma anche al dopodomani, in che termini e con quali strategie per quanto riguarda la promozione finanziaria di BNL? Sì, innanzitutto prima della domani e dopodomani due parole sull'oggi, nel senso che oggi relativamente al nostro progetto siamo perfettamente in target con gli obiettivi, cioè al punto in cui pensavamo, speravamo di essere un anno fa quando il progetto ha incominciato a prendere corpo, abbiamo terminato tutta una serie di attività di condivisione sia all'interno del gruppo in Italia che con la capogruppo, di appunto condivisione delle logiche di assetto organizzativo e di governance di questo importante progetto. Oggi abbiamo già superato le 100 persone come Life Banker, di cui circa la metà formate da personale dipendente, 35 giugno neolaureati che stiamo avviando con profitto a questa attività ed è iniziata anche l'attività da giugno scorso di selezione di senior che provengono da altre esperienze sia del mondo bancario che di reti. Quindi direi che siamo molto soddisfatti della struttura organizzativa che abbiamo realizzato fino ad ora, anche della struttura di governance che abbiamo costruito appunto per consentire ai nostri uomini di essere nelle condizioni migliori per poter servire i propri clienti, siano questi famiglie, privati, professionisti, imprenditori e aziende e quindi stiamo procedendo con questo nostro progetto che, come dicevo prima durante l'intervento, la conferenza guarda non soltanto al domani ma anche al dopodomani. Dopodomani, comprovato dall'investimento che stiamo facendo sui junior, ma anche da tutta una serie di attività che ci devono portare appunto a costruire una struttura molto forte, importante e che finalmente consenta al promotore finanziario italiano di servire davvero il cliente nelle diverse fasi della propria vita, sia personale che professionale che aziendale e appunto offrendo servizi che vanno dalla soluzione di raccolta di impiego privata, aziendale e servizi di qualsiasi tipo e natura. Questo nostro progetto si innesta in quello che è il modello di offerta della nostra banca che è un modello che ci piace chiamare omnicanale, vuol dire che è un modello che è formato da filiali, centri imprese, centri private, corporate banking, Hello Bank, la nostra banca digitale che sta avendo molto successo e ora dalla promozione finanziaria, tutti i canali che riescono a collaborare in modo sinergico ed interattivo molto efficace con una logica veramente win-win-win, che nel nostro caso è una logica quindi vincente sia per il promotore finanziario che per il cliente, che per la banca e per il gruppo. Costruire tutto questo è molto complesso, non è facile, se ce la stiamo facendo è perché abbiamo la fortuna di avere un gruppo solido, importante alle spalle che ha una straordinaria volontà di crescere in Italia e perché abbiamo una convinzione, direi una volontà quasi, definirei marmorea da parte del nostro vertice, a partire dall'amministratore delegato, nel realizzare un progetto che siamo convinti aiuterà molto, insieme anche a Hello Bank e a tutti gli altri canali storici della banca, ci aiuterà molto in quel progetto di crescita che poi è anche ben disegnato nel nostro piano industriale al 2016. Ecco, da osservatore, questa mattina si è parlato anche di evoluzione della professione di promotore finanziario, da osservatore come questo mestiere, questa attività, questa professione è cambiata dai tempi della prima esperienza di BNL nella promozione finanziaria per l'appunto ad oggi, sono passati diversi anni, ecco cos'è oggi il promotore finanziario dal suo punto di vista? Beh guardi, sono passati dieci anni e sono passate nel nostro mondo non so quante ere geologiche rispetto a quel periodo. La figura del promotore finanziario è un'altra, oggi rispetto a quella di dieci anni fa, è diminuito il numero dei promotori, è aumentata tantissimo la qualità, è aumentato il portafoglio medio pro capite, è migliorato l'asset mix del risparmio gestito dal promotore. La piattaforma di prodotti offerta è passata da pochi prodotti e anche volte molto costosi a tantissimi prodotti sia di raccolta che di impiego e per quanto riguarda la raccolta a prodotti multimarca, quindi in una logica di scevra dal conflitto di interessi e supportata da un servizio di consulenza a parcella che non ha fatto altro che dare molta dignità e credibilità al lavoro del promotore e al servizio di consulenza vero del promotore al proprio cliente. Io credo che anche il nome promotore finanziario sia oggi diventato antistorico, anacronistico, non adeguato alla realtà perché il promotore finanziario oggi veramente offre un servizio di consulenza, ripeto spesso lontano anche dal conflitto di interessi e riesce probabilmente il promotore finanziario ad offrire ciò che oggi gli sportelli bancari fanno un po' più fatica ad offrire che poi è la relazione, la disponibilità, la vicinanza, la consulenza. I promotori finanziari in questi anni sono passati dall'essere dei venditori di pochi prodotti finanziari, a volte anche costosi, ad essere davvero dei consulenti, andando a secondare, a soddisfare quel bisogno di relazione, di disponibilità, di consulenza, di ascolto che i clienti hanno, soprattutto i clienti di fascia alta in termini di disponibilità finanziarie e che sono i clienti che maggiormente apprezzano il servizio di consulenza che può offrire un promotore finanziario. Questo è il motivo per cui da parecchi anni i promotori finanziari stanno crescendo decisamente in termini di quantità e qualità degli asset anche a scapito del sistema bancario che, ripeto, ha dovuto fare delle scelte che hanno un senso e una ragione, ma che ha finito per favorire indirettamente l'attività del promotore finanziario. L'ultima domanda è questa, se ci può anticipare qualche numero con cui la promozione finanziaria di BNL chiuderà questo 2014? Il nostro obiettivo, ora siamo impegnati in un'attività di popolamento della rete, il nostro obiettivo che abbiamo a target è quello di chiudere l'anno con oltre 150 live banker suddivisi nelle tre categorie. Come vi dicevo, certamente l'attività che ci sta impegnando di più in questo momento è l'attività di selezione di promotori finanziari senior che provengano dal sistema bancario o da altre reti. È un'attività molto attenta perché non essendo la nostra una promozione finanziaria perfettamente identica a quelle di tante altre realtà, abbiamo bisogno di capire se la persona con cui stiamo parlando riesce e vuole valorizzare quella che è la differenza della nostra attività rispetto a quella dei nostri competitor, che è basata, come dicevo, sul cercare di arvalerci di tutte quelle che sono le competenze e le offerte di servizi e prodotti di qualità di un gruppo internazionale e globale come quello di Unpiparibale. E per quanto riguarda raccolta e portafogli dei promotori, siete pronti già a condividere degli obiettivi e a dare degli obiettivi di quelli che ne hanno? Questa è una conseguenza dell'attività di recruiting che stiamo portando avanti. Il nostro promotore finanziario è un promotore che ha degli asset importanti, superiore a quelli della media di mercato, del mercato della promozione finanziaria e quindi è presto fatto. Quando hai un certo numero di professionisti di questo tipo, raggiungi un certo livello di massa. Grazie mille per aver condiviso questa visione e queste indicazioni con noi e grazie per il suo tempo. Grazie a voi.